La procura di Trani vuole vederci chiaro su quanto accaduto ieri mattina in via vecchia barletta ad Andrea. L'incendio di due mezzi della raccolta rifiuti, delle nuove ditte che stanno svolgendo il servizio in città da un paio di mesi, appare ancora avvolto nel mistero. Indagini delicate affidate alla squadra mobile della questura della BAT. Il timore è che ci sia la mano della mala dietro lato intimidatorio e molto alto. Di certo c'è che la modalità utilizzata dal gruppo di malviventi incappucciati e probabilmente armati appare insolide di chiaro stampo malavitoso. Le minacce ai lavoratori per abbandonare i mezzi, il fuoco appiccato per arrecare più danni possibili, l'orario e il luogo isolato ma pubblico prescelto. In quel punto di via vecchia barletta infatti viene effettuato durante il giorno lo scambio delle varie frazioni di rifiuti dai mezzi più piccoli ai cassoni più grandi, in fiamme in modo sicuramente simbolico sia il mezzo più piccolo che la motrice del camion più grande. Tutti elementi questi che destano grande preoccupazione, tanto da spingere immediatamente la prefettura a convocare un comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica a poche ore dall'episodio. La casualità ha voluto che nella mattinata di ieri ci fosse anche un'assemblea sindacale già convocata da tempo tra lavoratori e ditte. Un'assemblea a cui ha partecipato anche il sindaco Giovanna Bruno. La richiesta è quella di compattezza e maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori. In prefettura via libera, un maggior controllo del territorio sorveglianza, vista la scarsità di uomini in campo. Proprio le poche e lontane telecamere della zona e le testimonianze dirette saranno essenziali per gli inquirenti nel tentativo di individuare i colpevoli materiali. Nel frattempo però si lavora anche sul movente. Nessun altro atto intimidatorio era stato registrato prima di questo nei confronti delle ditte. Gli episodi di cronaca di questi giorni in città ad Andria, l'incendio della Pineta Castel del Monte, l'attentato di Namitardo a un'attività commerciale in via Boccherini e l'atto incendiario di ieri fanno però pensare a un chiaro segnale della malavita locale. Quello che sorprende tuttavia è l'area ferragostana in cui sembra essersi anestetizzata la comunità. Pochi, ad oltre 24 ore dall'accaduto, i messaggi di condanna del gesto dalla società civile e dalla politica. A parte il primo cittadino e un paio di gruppi in consiglio comunale, manca una reazione forte e compatta contro un escalation criminale che rischia di far ripiombare la città indietro di molti anni dalla società civile. Unica presa di posizione è quella del forum Ambiente Ricorda e Rispetta, che ha sottolineato come l'attentato di ieri sia un attacco diretto alla salute dei cittadini.